Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMW News. Torniamo a parlare del campionato, si riparte domani con una serie di partite e in particolare puntiamo l'attenzione sul Napoli. In collegamento con noi c'è Salvatore Piazzo. Ciao Salvatore, buonasera. Bene, trovati anche voi. Oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Raspadori dice giustamente di sognare anche la Champions per come ha giocato il Napoli fino a questo momento. È un obiettivo realizzabile, anche se chiaramente più difficile rispetto alla conquista dello scudetto? Sicuramente archiviato lo scudetto si può guardare da parte del Napoli con una certa tranquillità anche alla Champions. Tutto quello che arriverà al Napoli sarà guadagnato e il passaggio sarebbe anche possibile con l'Eintracht Frankfurt anche se la squadra sta andando abbastanza bene, ma non occupa le prime posizioni del suo campionato. Il Napoli invece al contrario ha una distanza galattica rispetto alla seconda, ha una panchina lunghissima. vero che il Frankfurt è molto forte, però il Napoli è ancora più forte, potendo contare appunto sulle alternative, pensate, Simeone e Raspadori che potrebbero andare bene in qualsiasi altra squadra e farebbero probabilmente la differenza. Dice sempre Raspadori in questa intervista che Spalletti è più rigoroso dei suoi professori all'università. Ce lo vedi Spalletti in questa descrizione? Ce lo ritrovi? Evidentemente si è laureato di recente, non me ne ero accorto. Sicuramente Spalletti è un personaggio molto eclettico, un po' teatrale, come dice spesso Fabio Capello, però è un allenatore che ha saputo interpretare il modo di giocare di questi calciatori, li ha messi insieme e ne ha fatto una squadra veramente formidabile, perché poi hai voglia che tutti si schierano contro il Napoli, soprattutto i grandi giornali, evidentemente ci dovrebbe essere anche un po' di sportività. Il Napoli non è che sta facendo imbrogli per vincere, le altre perdono, il Napoli vince e così è. Senti, nel frattempo si registra un grande entusiasmo a Napoli, non soltanto proprio per il campionato, per lo scudetto che è sempre più vicino, ma anche proprio in ottica Champions in vista della partita di martedì, uno stadio, il Maradona che dovrebbe essere gremito in ogni ordine di posto, sold out. E sold out, ma credo che saranno per vendere anche i biglietti dei prossimi incontri, perché sono tutti convinti di superare il Frankfurt. Peraltro hanno battuto anche il record della scaramanzia, perché fino a questo momento non si parlava di scudetto di Champions, adesso a San Gregorio e Armeno stanno facendo i pastori, già con le sciarpe 2022-2023, terzo scudetto. E poi si parla anche di mercato, perché Quaraskelia inevitabilmente è finito nel mirino delle big internazionali, lo vedi comunque al Napoli ancora a lungo? Ma guarda, anche Osimene è nel mirino ovviamente, e peraltro ci sono delle offerte veramente clamorose, anche più cospicue, congre di quelle per Caravaskelia. Io dico semplicemente che il Napoli in questo momento ha una media calciatoria, una grafica molto bassa, o almeno più bassa rispetto alle altre. gioca un calcio formidabile e potrebbe avere un trend di crescita anche nel futuro. Allora qui, delle due luna, o il Napoli ha un progetto di durata per assumere la leadership del calcio italiano anche per i prossimi anni, o almeno per il prossimo anno, o evidentemente si bada solamente al bilancio. E allora a questo punto è chiaro che avendo Raspadori, Simeone e Caravaskelia, allora potrebbe finire sul mercato anche un certo Osimene. Però l'impressione è che il Napoli possa davvero aprire un grande ciclo con questi giocatori e quindi l'occasione è ghiotta. Eh sì, un po' come è successo a metà degli anni Ottanta, c'era un Milan fortissimo, Napoli e Milan se la sono giocata e diciamo gli scudetti, forse il Napoli poteva vincere, come ha detto recentemente, Fernando De Napoli, che fu il numero otto di quel grande Napoli, in effetti forse poteva vincere ancora di più. Questo Napoli, per la verità, per come sta giocando, voglio dire, deve avere paura soltanto di se stesso. Senti, invece, restando in Campania, che pensi dell'arrivo di Paolo Sosa alla guida della Salernitana? Ma c'è grande entusiasmo intorno a lui perché al di là dei risultati che ha ottenuto, parliamo ovviamente dei risultati da tecnico e comunque una personalità di rilievo internazionale che spero che a Salerno possa far bene, anche perché a Salerno ci sono grandi risorse dal punto di vista economico, l'Erbolino ha disponibilità e ha dimostrato finora che ci tiene moltissimo e vorrebbe vedere la Salernitana stabilmente in Serie A. d'altro canto a un pubblico, a un mercato, per così dire, davvero importante. Ecco, a tuo parere, che cosa non ha funzionato tra la Salernitana e Nicola in questo campionato? La sconfitta con l'Atalanta, soltanto quella, perché è stata una sconfitta umiliante, una di quelle sconfitte che nessuno accetta mai, anche se probabilmente il divario tecnico c'era. Io parto sempre dall'opinione, probabilmente perché ho i capelli bianchi, che ci sono allenatori del passato che quando una squadra dominava sull'avversaria, arrivata ad un certo punto sul 4-0, sul 4-1 si tiravano i rimi in barca. E recentemente questo non accade più, è brutto che un allenatore venga, che vada ad umiliare un suo collega e lo mette nelle condizioni di essere esonerato. Il giocattolo salernitana si è rotto in quella partita. Eh sì, certo è che adesso anche la corsa alla salvezza diventa più complicata perché comunque il Verona sembra aver preso un bel ritmo in questo 2023, sembra aver cambiato atteggiamento, sembra avere un altro spirito. Eh, lo stesso Monza del resto, vedi, il Monza che sembrava già condannato, già predestinato alla retrocessione, invece è riuscito a farsi avanti, anche se ha lo stesso numero di gol subiti del Milan, che è quanto dire. Tornando invece all'alta classifica, l'Inter continua a far discutere, dopo il pareggio contro la Samp sono arrivate ulteriori critiche per Inzaghi, Inzaghi che a questo punto deve fare un'ottima figura in Champions e portare al secondo posto l'Inter, altrimenti rischia di essere sostituito nella prossima stagione. Noi facciamo un mestiere per il quale, insomma, se ho, diciamo, una squadra italiana, quale che ne sia il nome, va avanti in Champions on Europe League, dobbiamo essere, per così dire, contenti, felici, perché poi in effetti al di là di tutto, al di là anche della fazione, del tifo personale, c'è un fattore Italia che deve prevalere. Io credo che nell'Inter qualcosa si sia rotto tra Inzaghi e i suoi calciatori, anche se ad Inzaghi non è che si possono fare grossi addebiti, visto che comunque due coppe le ha portate a casa, alcune partite, soprattutto quelle contro il Milan, le ha vinte, quindi due derby in pochi giorni non le ha vinti mai nessuno. E quindi, ecco, sul futuro di Inzaghi ritieni che in ogni caso... Ma io credo che finirà tranquillamente il campionato. Sì, finirà tranquillamente il campionato e poi c'è da capire... Sì, prego, prego. D'altro canto, voglio dire, ad allenatori come Pioli, che continua a lamentarsi della sconvitta con Napoli, come se quella fosse lo spareggio per lo scudetto, ma così non è, perché poi ha perso di suo. Inzaghi sono due allenatori che erano deputati a vincere tantissimo, stanno andando male per moltissime ragioni, infortuni, qualche problemino negli spogliatoi, però alla fine è chiaro che puntano a questo punto tutto sulle coppe. Oggi, in un'intervista sempre alla Gazzetta dello Sport, Adani sottolinea che nella gestione di Lukaku, che non sta rendendo, certamente rispetto a come era abituata a vederlo l'Inter nella prima stagione del Belga con la maglia nera azzurra, ha qualche responsabilità anche lo stesso Inzaghi? Ma guarda, su questo, sai quando un calciatore, tu fai affidamento su un calciatore, lo vedi in allenamento, vedi che va bene, vedi che fa quello che tu dici, si va a porre in attacco nella maniera giusta, poi va in partita e non gioca bene, non è che poi sia sempre colpa dell'allenatore. Adani ha di queste uscite, fa anche bene perché uno sicuramente esperto, probabilmente, insomma, forse in questa circostanza ha un po' esagerato. Salvatore, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata. Sono io che ringrazio sempre voi per l'attenzione che mi dedicate, grazie. Alla prossima. Andiamo adesso a collegarci con Massimo Maddaloni, ciao Massimo, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, a te, insomma, a tutti i tuoi ascoltatori. Ripartiamo dal Milan, da allenatore ti chiedo qual è stata la chiave che Pioli ha saputo riattivare per poter riaccendere il Milan. Ma, aspettiamo un pochettino a dire che si è riacceso perché sicuramente le due ultime partite hanno fatto sì che il Milan si fosse un pochettino ritrovato, però ha giocato anche in Champions League contro una squadra che effettivamente sta passando anche un brutto momento anche essa e quindi aspettiamo a vedere. E domenica, secondo me, ha una partita, sabato, una partita non facile perché gioca contro un Monza che gioca veramente bene. Quindi aspettiamo un pochettino, però credo che le corde per far ripartire siano state soprattutto motivazionali, cercando anche di optare in qualche variazione tattica che ha creato un pochettino più di equilibrio alla squadra che prima forse non c'era. Adesso si parla molto anche di Ciao che è stato praticamente il migliore in campo contro il Tottenham, questo calciatore che potrebbe essere una bella risorsa per Pioli. Ma sì, effettivamente ha dimostrato di essere sicuramente un giocatore importante in un momento come questo dove forse sicuramente c'era bisogno di un giocatore così e speriamo tanto che questo giocatore possa dare quell'equilibrio importante a questa squadra che l'anno scorso ha dimostrato di fare un gran calcio e quest'anno un po' per motivi mentali, un po' anche perché per la perdita di Chessi in mezzo al campo che sicuramente l'anno scorso dava molto più equilibrio a questa squadra, ha sicuramente avuto degli alti e dei bassi che stavano creando un po' di problemi. Diaz è stato il giocatore decisivo contro il Tottenham, è un giocatore che non ha trovato almeno in questa stagione grande continuità, è stato fuori anche per una serie di partite, probabilmente è questo lo scatto che deve fare Diaz? Sì, mi allaccio un po' a quello che ho detto due minuti fa. Diaz l'anno scorso è stato un giocatore importante come tutti quelli che, hanno vinto lo scudetto, quest'anno molti giocatori con quelle caratteristiche un pochettino offensive hanno avuto un po' di problemi perché, come dicevo prima, secondo me la perdita di un giocatore con quelle caratteristiche come Chessi aveva creato anche nel centro campo sicuramente meno filtro, meno possibilità di poter non far ripartire gli avversari e questo ha creato anche in Diaz, come tutti quelli che giocavano in quel ruolo, un po' di problemi perché allungandosi parecchio allungandosi si doveva correre un po' di più e hanno fatto un po' più di fatica. Parliamo un po' del Napoli anche, visto che hai avuto la possibilità di seguire gli allenamenti della squadra di Spalletti, sei stato al centro sportivo dei Partenopei e quindi qualche curiosità che ci puoi raccontare? Qual è? Innanzitutto posso dirti che ho trovato un ambiente molto concentrato e deciso, un ambiente tranquillo, ho trovato dei giocatori che un gruppo di lavoro è eccezionale perché ho visto tre giorni in allenamento e veramente tutti sul pezzo, ma veramente tutti dal primo all'ultimo grossa intensità nel svolgere gli allenamenti, grossa concentrazione, grossa voglia di continuare a fare quello che stanno facendo, tutto questo coordinato secondo me in questo momento forse dall'allenatore che sta dimostrando di essere forse il più bravo in Italia perché veramente ho trovato una squadra guidata da un allenatore che sta dimostrando di essere un allenatore veramente tra i più accreditati in Italia. Ecco in particolare, il gioco è chiaro che è sotto gli occhi di tutti, il bel gioco del Napoli, però la mano di Spalletti dove la vedi? Ma io definisco il tutto quando si hanno questi risultati, è l'insieme di tanti componenti e io credo che il Napoli come società abbia creato i presupposti di dare in mano a Spalletti una squadra numericamente secondo me attrezzata, quindi una macchina che potesse correre a cento all'ora come sta correndo e Spalletti secondo me è stato bravissimo a dargli quell'equilibrio e quella capacità nelle due fasi di essere una squadra che in questo momento sia in Italia che all'estero sta dimostrando di essere veramente una squadra forte. Io credo che Spalletti abbia avuto la capacità e la competenza di capire che questo Napoli veramente aveva delle qualità sia come collettivo da grande squadra e dargli quella mentalità che poi ha sempre dato a tutte le squadre dove è andato, perché parlandoci chiaramente Spalletti sia alla Roma, sia all'Inter, sia in tutte quelle squadre, sia all'estero, allo Zenit è sempre stato un allenatore che sotto l'aspetto della mentalità, sotto l'aspetto dell'atteggiamento propositivo alle sue squadre è sempre stato un innovatore. Parlando invece della lotta per il secondo posto che diventa a questo punto la più interessante perché lo scudetto ormai è tranquillamente e saldamente nelle mani della Napoli, l'Atalanta alla fine potrebbe spuntarla visto che può concentrarsi solo sul campionato e sembra aver ritrovato lo smalto necessario per questo obiettivo? Il campionato sta dicendo una cosa, che fondamentalmente dietro il Napoli veramente in questo momento ci sono 4-5 squadre che si possono giocare la possibilità di entrare in Champions League e non tutti corrono in maniera abbastanza, con un passo abbastanza cadenzato, hanno dei alti e dei bassi e questo può portare sicuramente al fatto che l'Atalanta avendo cambiato parecchio piano piano sta crescendo e sta crescendo con dei giovani importanti che ha comprato quest'anno e potrebbe essere secondo me un'ottima soluzione a quello che può essere la classifica finale perché secondo me può dire la sua, perché sia Inter, sia Milan, la Juve per la periodizzazione ormai è quasi fuori, la Roma e tutte queste squadre qui sicuramente a volte hanno dei passi falsi che possono portare sia l'Atalanta ad avere la possibilità di entrare in Champions League. Parlavi dei giovani dell'Atalanta, ti ha sorpreso, ti ha impressionato Oilund? Ma è un giocatore che avevo già visto sinceramente, però non credevo che potesse avere questo tipo di atteggiamento così devastante. Sta dimostrando di essere un grande giocatore, sta dimostrando di essere un giovane veramente promettente e secondo me per caratteristiche è un prototipo proprio dell'attaccante moderno tipo Alanda, tipo Ozymane, giocatori veramente forti, sia fisicamente veloci che abbiano capacità di poter abbinare sia gioco di qualità nello stretto sia gioco di velocità nell'attaccare la profondità e questo gli dà la possibilità di avere caratteristiche che possono farlo diventare un gran giocatore. Mi ha colpito nella partita contro la Lazio la velocità, la progressione di questo calciatore è partito a un certo punto dalla propria tre quarti ed è arrivato in area di rigore superando in velocità almeno un paio di avversari ma passandogli accanto e andando via quasi come se fosse una Ferrari. È proprio questo, la caratteristica che accomuna in questi tre nomi che ti ho fatto, da Oland, da Ozymane, giocatori che hanno la capacità di avere negli spazi un atteggiamento fisico devastante ma nello stesso tempo sottoporta avere una capacità realizzativa importante e questo gli dà la possibilità sia di essere un giocatore che può facilmente dare una mano alla propria squadra perché allunga le difese avversarie sia nello stesso tempo nei 16 metri e avere quella capacità di avere il senso del gol che molti altri attaccanti, soprattutto a quell'età, ancora non hanno sviluppato. Senti, invece la Juventus se non avesse avuto la penalizzazione si troverebbe ora al secondo posto in classifica. Secondo te, ecco, alla fine come, che tipo di tue sensazioni naturalmente e come andrà a finire questa vicenda legata ai 15 punti di penalizzazione? Ma io non credo che, perché molti tifosi giuventini pensano di poter riavere indietro questi 15 punti di penalizzazione, io non credo che ci sia questa possibilità, soprattutto perché ci sono intercettazioni abbastanza importanti da poter confermare quello che è stato già sentenziato. È vero che la Juve, se non fosse questa politizzazione, fosse seconda in classifica, ma è anche vero che, come ho detto prima, quest'anno dopo il Napoli veramente ci sono squadre che stanno un pochettino zoppicando e questo non vuol dire che la Juve sarebbe seconda meritatamente, ma vorrebbe dire che è seconda in un insieme di certi componenti che hanno portato sia la Juve, sia l'Inter, sia il Milan, sia la Roma e altre squadre un pochettino ad avere un campionato abbastanza alternante. Sì, insomma, c'è una distanza quasi incolmabile tra il Napoli e prima in classifica. Sì, fammi dire una cosa, perché la cosa importante in questione che sta venendo fuori è che il fatto che il Napoli stia vincendo in maniera così netta, molti dicono, sì va bene, però sta vincendo in maniera così netta perché gli altri quest'anno non stanno andando. È vero questo, fino a un certo punto, perché l'ho detto prima, però secondo me è anche vero che il Napoli merita, per quello che ha fatto vedere, questo vantaggio abbastanza importante. Eh sì. Massimo, ti ringraziamo, buona giornata, a presto. Grazie mille. Ciao. Siamo ai saluti per questa edizione del TNV News, ci ritroviamo domani. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.